Già duramente messi alla prova dai cantieri stradali, in queste settimane aperte in città, i pistoiesi si apprestano a vivere un'altra giornata difficile. Mercoledì 9 maggio, infatti, analogamente a quanto è accaduto, a metà aprile, la tangenziale est sarà chiusa per alcune ore, per lavori. Un mese fa l'apertura del cantiere fu segnata da code e rallentamenti, soprattutto per i mezzi pesanti, costretti a lunghi e tortuosi giri per arrivare alla zona industriale di Sant'Agostino, situazione che non escluso possa ripetersi. Sulla tangenziale est sarà vietata la circolazione dalla rotatoria di via Toscana alla rampa di uscita per via Fermi dalle 9 alle 17. Una chiusura resa necessaria per effettuare le operazioni di spostamento del cantiere dalla semicarreggiata est a quella opposta, ad ovest. I tempi sono in leggero anticipo rispetto al cronoprogramma che è stato fissato dalla provincia. Quelli sul lato est, infatti, si sono conclusi prima del previsto. Lavori che hanno riguardato la sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto che permette il superamento del torrente Brana, della via Vecchia Pratese e di via Fermi. Da mercoledì sera, dopo le 17, sempre secondo il cronoprogramma della provincia, il traffico tornerà possibile, ma solo in direzione nord, ovvero verso Sant'Agostino.